Una serata magica da Gerola per il festival Sui Sentieri degli Dèi, grazie alla musica di Peppe Servillo e Solis String Quartet, forti del grande successo riscontrato da Spassionatamente, che li aveva vissi per la prima volta affrontare i capolavori della canzone classica napoletana, gli scunizi della musica da camera e il fuoriclasse degli Amion Travel tornano con presentimento. Da Palomma di Armando Gil a Tarantella Segreta di Raffaele Viviani, da Presentimento di Ea Mario a Maggia Curà e Scalinatella di Giuseppe Cioffi. Quindi ascoltiamo Peppe Servillo, che nel 2013 ha ricevuto il premio Salvatore di Giacomo. Noi ci figuriamo tanto il futuro, oppure pensiamo con nostalgia al passato e trascuriamo invece il presente, che sarebbe il momento più importante. Però il titolo di questo disco non fa riferimento a questo, ma al fatto che i poeti che hanno scritto queste canzoni, io li vedo spesso come degli indovini che ci raccontano il nostro desiderio, quindi ciò che noi vorremmo dal futuro. La musica napoletana è una delle grandi ricchezze della nostra terra ed uno degli obiettivi del festival è proprio quello di valorizzarla, come conferma il sindaco di Agerola, Luca Mascolo. Momenti come questi ci riconciliano con il nostro essere napoletani e con la nostra napoletaneità e ci danno la possibilità di dire al mondo che qui si fa cultura, si fa cultura vera, la si fa da tanti secoli come abbiamo potuto ascoltare stasera e siamo certi che la si farà per tantissimi secoli ancora, perché fa parte del nostro DNA, quindi il festival vuole essere anche la sintesi di questa nostra vocazione.